Dove sei? Siamo in Manigiu, però ha un outfit un po' strano. Oggi non monto, però stiamo preparando per andare a Verona su. Andiamo a vedere dove sono? Come ti senti, sei emozionata? Eh, un pochino. E ti sei? E ti sei emozionata, ti sei emozionata. Curcela, sportissima. Curcela, sportissima. Ti aspetta un bel viaggetto adesso. Un nasone? Un nasone. Quella è il vizio di annusare per terra, quindi ho usato già la terra. Sei terra. Guarda, guarda che schifo. Sì. Ma sei un lammatracca, hai capito? Strullina. e se non viene lui è rimasto poverino mezzo verde povero Tappo poverino ciao Tappo e zucchero? zucchero amore zucchero amore zucchero ciao zucchero noi abbiamo fatto la doccia ciao zucchero amore lui ha già rimesso il pelo se lo senti l'hanno dosato una volta fa no ma proprio qui sul collo rispetto a oscura è molto più peloso zucchero non mi mordere no ma ieri guarda ieri era una notte perché gli abbiamo fatto la doccia io e Aurora e i cavalli no, specialmente quando sono dosati si mettono sotto le lampade che sono quelle rosse si mettono sotto le lampade per farle asciugare no stanno sotto in teoria perché prima c'era Montebello no in doccia sembrava finto lui ogni tre per due fa conto queste sono le lampade e questo è lui si metteva dritto noi si metteva dritto poi si metteva dritto poi si metteva dritto è sempre lì lotta contro il zucchero hai capito? buongiorno buongiorno allora brava vestita è giunto il momento la prima bellissima cavalla scusa scusa che un pochino brava cavalli brava brava cavalli brava 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 sei brava e non iniziare a mozzicchiare hai capito? perché la gente ti tocca così 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 wow che bello quel tuo cavallo che bello quel tuo cavallo che bello andiamo vieni 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 brava 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 ecco qui siamo pronti a partire dove andiamo? ma però siamo al rec dovete far noi questo mac qua è pieno su in macchina dormitola sono svegliata tipo 5 minuti no 10 minuti fa e sono ancora meglio addormentata però adesso manca poco manca non solo siamo a Firenze quindi manca una due orezza e mezzo e stiamo queste patatine si confermo fanno davvero scritto dove siamo Sufi? siamo dietro a Giulio e Matteo che stiamo andando a Verona cioè aspettiamo quasi arrivati sei pronta? no come no? siamo arrivati adesso siamo dietro al camion andiamo per arrivare quando arriviamo in fiera allora oggi ci ambientiamo un pochino e mettiamo i cavalli nei box sistemiamo guardiamo un po' la fiera anche perché è chiusa al pubblico noi non siamo pubblici lo vedete quello lì? Bauli cos'è? Bauli c'è scritto Bauli è la marca che fa sì Pandori ma è la marca che fa le brioche tra l'altro è bellissimo perché è tutta rosa guarda che fulgolo c'è senza la prima strenosa e poi sono Giulio e Matteo là davanti quel furgone lì giallo davanti sono Giulio e Matteo ecco sei bravo qui c'è Pietro furgone furgone camion io di grudo sì sto dentro con lei guarda che va messa vai chiudi chiudi ecco la scura guarda già è arrivato chiudi brava bimba brava bimba sì un attimo tanto mi scappava la pipì la zucca mi scappava tantissimo la pipì bocca non ce la faceva più non ce la faceva abbiamo scaricato i cavalli abbiamo messo le coperte adesso si deve un po' tranquillizzare dal viaggio dato che sono uova anche se lei c'è già stata qua però vabbè ragazzi siamo entrati abbiamo scaricato tutto sì lo scuro lo scuro è qua poi abbiamo il zucchero è molto bello che sono negli abito qua accanto siamo al padiglione 2 e sono un po' appozionata oggi ci sistemiamo ci tranquillizziamo un pochino vero? vero no ma lei è già molto tranquilla non vi posso dire altro ciao dove andiamo? c'è anche il cuore di mare siamo pronti? siamo pronti? sì? sì tutti pronti? io sono lì aspetta ciao ciao là sono sono là ciao è freddo? freddo? sì adesso andiamo a vedere se i suoni stanno bello hanno dormito che si sono muscolati c'è da pulire la tutta eh no interessante vediamoci restandolo qui mamma mia guarda lì che lavoro vediamoci restandolo qui sofi vedela il lavoro madonna che bomboloni oh dio guarda che adesso ci siamo di solito adesso non ho tanta fani quindi io non quello è il pallione uno lì là ci dovrebbe essere il pallione due sì arrivati? sì adesso andiamo andiamo a trovare dei poni vediamo se stanno bene se si sono soccolati se hanno dormito e poi vediamo un po' poi il trucco parrucco eh guarda quanto sempre c'è già un po' oh piancia 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 dobbè il filtrino ancora? ciao buongiorno buongiorno non ci sono trovate le carotte dove ti si comprano? non ci sono trovate buongiorno 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 lì ci sono dei truccioli l'ho visti davanti no no mi hanno detto di no oscura ma ce l'ha? sì sì no oscura dai te l'ho pulito adesso non lo ha ma sta guarda sei già tutta sporca vieni qua mi sto fatta papà mi apri? sì allora vado a vedere cosa stanno là al canto vai come si è bella come si è bella dice te ma qui vuoi f Spedio la sella spedio la sella adesso vi spedio la sella è molto divertente qua volента agine finchì la sella enti se tu Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'inaugurazione prosegue con la visita al quartiere feristico con il project manager di Fiera Cavalli. È il video del primo giorno. Ragazzi, questa è la mattina del secondo giorno. Fa freddo, sono le 8 e 20 e adesso ci finiamo di preparare. È un po' freddo, infatti si fuma dalla bocca. Non so se si vede, però fidatevi, si fuma dalla bocca. E adesso aspettiamo che babbo e mamma si finiscono. Se finiscono, avete capito, di preparare. E poi andiamo a prendere Aurora e la sua mamma e andiamo in Fiera. Anche perché alle 9 apre e quindi poi facciamo tutte le nostre cose con i pony. Ciao. Prontissimi? Pronto? Pronto? Usciamo! Facciate la nostra mamma e vi do so. Sì, aspetta. Questa è la nostra casetta. Là c'è il posto per la macchina e poi questa è la nostra casetta. Una brava bimba. Oscura. Cucciola, vieni. Eccola. Bella bimba. Oscura, vieni cucciola. Ciao amori. Ciao, bellissima. Ciao. E' vero, tra gli applausi della scuderia Podere Catalini. Grazie ragazzi, il sorriso dei bimbi della scuderia Catalini. E ci vuole l'applauso perché ci è stato tanto il grigno per questa presentazione divertente della scuderia Catalini. Bravissima Sofì, bravissima Aurora e Luca Treccia Sofì, che riliempia per l'attavessagista Sofì Giovin e da un Erboni di zero. Bravissima, bravissima. È durato un secondo. Sei divertita? Salutate, salutate alla fine. Niki, Niki. Io guardo tutti i tuoi video dieci volte al giorno. Mi si sveglia tutte le mattine. Oh, quello è vero però, eh. Quello è vero. Perché si sveglia tutte le mattine. Eh, per farla svegliare, per fargli aprire gli occhi, mi dobbiamo mettere un video. Non è vero. 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 Fai capire meglio. Vai. Vai. Ciao. 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 Speravamo di riuscire a vederti. Speravamo di riuscire a vederti. Speravamo di riuscire a vederti. Ora mettiamo anche noi il video, Sophie, eh. È vero. Ciao. È diventata senza parole. Sophie, ti chiacchierona quando ti vede senza parole. Ciao. Ciao. Qui un raro esemplare di Sophie che sta aspettando il suo turno per andare in campo di prova. Una caratteristica bellissima e porfologica di questo esemplare sono le super bellissime gotine dell'amore. facceli vedere sorridi simpatico perché sono tre campioni quelli che questa mattina l'associazione nazionale allevatori del cavallo di Monte Rufoli ci presenta la prima è Oscura buongiorno Sofì Sofì Giovi con Oscura il potere Catalini nel dressage grazie Sofì della tua presenza della dressaggista e ancora Zucchero con Aurora del Vecchio Aurora del Vecchio e poi per ultimo insieme a Giulia Anastasia la tecnico federale delle potere Catalini insieme a Matteo Rienti che è il driver di questo attacco Marathon il ringraziamento a Matteo Rienti e a Giulia Anastasia perché Montebello ha rappresentato nel team Italia l'Italia l'Italia del driving l'Italia degli attacchi buoni in funzione non solo le discipline orientiche con il dressage e il salto con i cavallini di Monte Rufoli ma potere Catalini anche nell'endurance tutti e due video e foto questo? io il segnafo però pardon la pietra è finita la pietra è finita se rimane così tira tienila tienila rimane così poi ti porta via invece che devi stare così e poi ta ta capito? un po' Grazie a tutti. Sì, se volete io vero. Ma da là che disperati! Stanchi, affamati ma felici! Che massa di disperati! Grande Sofì! Ho fame! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!